con giulio e con il mio e lì a super e Matteo io andiamo qui e abbiamo fatto una bellissima partita con le spade laser anche e siamo uguali possiamo utilizzare solo le cose star wars aiuto aiutatemi aiutatemi e giulioz perchè mi lasci subito oh vabbè perchè non riesco a farlo ecco dopo dieci anni giulioz sta qua no anche questo è one shot è one shot è one shot perchè io l'ho massacrato per un altro questo lo sai no io devo guardarvi che non voglio vi portate una spada laser è vero non ti possiamo curare è vero un attimo arrivo si è giusto qua giulio ce l'ho capito tengo il coso è vero facciamo che un furtino noia e vabbè ma c'è chi mi ha chiuso era frax io non ci so guarda quanto è testo non ti credo ma non ti piacciono le cose di star wars a te a me è qui però io sono in Dracula nooo nooo non ci credo ragazzi io voglio andare a mangiare ci vediamo al limite dopo bravo ma non ci fai quindi che se io ti fai qui ragazzi abbiamo buttato la partita dal cesto ma non fa niente quindi però io devo andare in bagno però io devo andare in bagno ciao